Potrebbe apparire questa mattina in videoconferenza il boss mafioso Matteo Messina Denaro arrestato lunedì mattina a Palermo Riprenderà alle 9.30, davanti alla corte d'appello di Caltanissetta, l'udienza che vede imputato l'ex latitante, accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio E, la prima udienza di un processo dopo la cattura del padrino di Castelvetrano Ieri il procuratore generale Antonino Patti ha confermato all'Ancronos che, non vi è alcun impedimento, per celebrare il processo, e che, è già stata predisposta la videoconferenza Il provvedimento sulla celebrazione del processo, è stato regolarmente notificato all'imputato Fino ad ora Matteo Messina Denaro, condannato in primo grado all'ergastolo, è stato giudicato da latitante e tutto il processo si è celebrato in sua assenza Autista sempre questa mattina verrà interrogato questa mattina, a partire dalle 9.30, nel carcere Pagliarelli di Palermo, Giovanni Lupino, 59 anni, l'autista del boss arrestato con l'ex latitante domani Lupino è un commerciante di olive di Campobello di Mazzara, Trapani, il luogo in cui il latitante si nascondeva e di cui ne aveva fatto residenza nella carta d'identità fasulla che rimandava ad Andrea Grazie a tutti!